con marzia bassini che oggi ha annunciato specialmente la sua candidatura sindaca di monte carlo con la lista per monte carlo quali sono i primi obiettivi per il paese anzitutto vorrei ringraziare il sindaco uscente che per motivi personali che rispetto nonostante abbiamo molto insistita finché potesse continuare il suo mandato per come lo ha svolto però capiamo ovviamente quelle che sono le sue esigenze quindi lo ringrazio per la stima che mi ha dimostrato chiedendomi di mettermi appunto al servizio della comunità di monte carlo quello che vogliamo fare tutti insieme come abbiamo sempre fatto finora è quello di portare avanti il progetto guardando particolarmente alle frazioni curandone il decoro la cura e cercando anche proprio di istituire un nuovo assessorato che abbia lo scopo di avvicinare ancora di più l'amministrazione centrale alle frazioni un guardo particolare sarà rivolto ovviamente al capoluogo con lo scopo di far stare sempre meglio i cittadini che vivono nel capoluogo e incentivare anche i turisti che vengono a visitare il capoluogo sperando che poi possono ritornare con piacere a visitare il nostro borgo antico e per questo visto che abbiamo tanti siti importanti dal punto di vista culturale l'idea è quella di riformare come già in passato c'è stata una commissione con lo scopo proprio di occuparsi della scinta muraria del sottopellini carmignani di tutto quello che è il patrimonio artistico culturale di monte carlo e individuare in questa commissione una persona che particolarmente ha a cuore e conosce bene questa realtà che è giorgio pieraccini per appunto ridare un volta ancora più accogliente alla nostra comunità del capoluogo non ultime ma sicuramente importanti sono le associazioni le associazioni ci seguono sempre quando noi facciamo gli eventi quando proponiamo iniziative per per monte carlo le associazioni culturali le associazioni sportive quelle che hanno uno scopo prettamente sociale con l'intenzione anche di ravvicinare al mondo associazionistico i giovani perché molti di loro forse non ne conoscono neanche l'esistenza di queste associazioni quindi lo scopo è quello proprio di rivalorizzarle e di avvicinare a questo mondo anche i giovani